Amiche e amici, ciao, bentrovati, come state? Sono abbastanza fusa, è da qualche giorno che non registro, i video che avete visto in questa settimana sono registrati sapendo un po' della settimana lavorativa impegnativa che si profilava all'orizzonte, visto che stiamo lavorando tutte le casse integrazioni sono veramente oberata, mi vedete così in tutta ginnica, mi sono cambiata, vado a fare qualche esercizio giù in giardino approfittando di questo ultimo sole, però vi volevo comunque fare un video per non lasciare scoperto il canale ieri non ho registrato, non avevo video pronti e oggi vi giro i finiti della CN, quei prodotti che si acquistano da Lidl e inizierei da un prodottino della PH Bio, proprio questa settimana è uscita la nuova linea PH Bio, io non sono andata, spero di tornare domani, dovrei tornare in ufficio per delle pratiche e voglio fare un salto a Lidl, PH Bio, shampoo alla mela verde idratante e nutriente con estratti vegetali 100% bio allora io questo l'avevo preso sperando che la profumazione mi riportasse un po' alla profumazione dello shampoo alla mela verde in voga negli anni 70, è un profumo erbaceo, non di mela verde che a me non ha arrecato quei benefici al capello e vi dico sempre che io non mi trovo particolarmente bene con i prodotti biologici anche se certificati perché questo è un bio eco, un vegan ok, IAB, insomma ha un sacco di certificazioni l'estratto di mela dalle proprietà nutrienti e idratanti nei confronti del capello me lo ha seccato e disidratato parecchio voi vedete che il mio è un capello tendente al mosso, se non viene ammorbidito qui mi si crea la stoppa questo è uno shampoo che mi crea proprio la stoppa nel capello, nel momento in cui io lo vado a sciacquare avverto già che il mio capello è sfibrato, è stato proprio denaturato, è stato proprio ripulito di tutto ciò che creava anche una patina protettiva, anche quella patina brillante, lucente insomma, però ecco quel poco di buono che riesco a regalare al mio capello con maschere, trattamenti ed altro con questo shampoo tutto viene vanificato, so che la variante al cocco viene adorata di più, lodata di più elogiata di più, a prescindere dalla profumazione ce l'ho in dispensa, lo metterò in uso e vi saprò dire appartenente alla tropical summer, questo gel detergente igienizzante mani al coconut kiss questo era di due anni fa e ricordo ancora ora l'esatto momento in cui mi sono maledetta per non aver preso tutte le profumazioni in gamma è molto utile in questo periodo ma è molto utile anche il rivestimento così gommoso che è molto pratico da appendere alla borsa, in macchina, se lo volete lasciare in macchina, vedete questa asola che voi andate a modulare e la pendette dove più vi garba è molto antistress e sicuramente è il ricambio per altre di queste tra l'altro questa pratica confezione da 50 ml, credo che anche il gel igienizzante di Lidl che ora non si trova più però era in questo formato e rientrava benissimo in questo, si può intercambiare sono veramente fusa e ho i pensieri che mi frullano in testa non riesco neanche a proferir verbo, figuratevi voi che cervello fritto che ho abbiamo terminato questa confezione che io compro sempre a Lidl dei bastoncini cotonati sono 300, hanno sempre queste scattolette molto graziose che possono essere anche lasciate in vista non mi dispiace per niente ho terminato anche questo detergente intimo rinfrescante con menta e malva bio è un prodotto italiano, è un made in Italy ve l'avevo già detto, tutta questa linea bios viene prodotta a Milano in via Cesare Cantù mi trovo bene, è un buon prodotto discreto io lo prendo quando sono proprio in emergenza è delicato, non è ai livelli del detergente intimo di pH bio che mi piace un po' di più perché ha quella profumazione molto più aromatica qua è quasi slavata, è una menta molto delicata non è una bella menta piperita, frizzante, energizzante anche la malva ha questa funzione lenitiva la usavano le nostre nonne la malva, gli impacchi di malva hanno questa funzione sì, lenitiva anche antinfiammatoria venivano utilizzate queste lavande questi sciacqui, risciacqui con acqua con questi decotti mi viene da dire di malva lo prendo quando voglio alternare anche per l'intimo io alterno sempre e questo comunque è un buon prodotto terminato anche un altro sapone mani questo nella variante pera e prugna mirabei più che una prugna mi ricorda una bella albicocca anche dall'immagine che è rappresentata sembrano più albicocche insieme alle pere perché la profumazione effettivamente rimanda a questo frutto golosissimo che a me piace molto questi ormai non ve li dico più vi stresso ogni volta parlano da sole le confezioni che vi mostro quindi sì, mi piace, le compro, le ricompro ho provato lei e non so dove ho messo la maschera credevo di averla tenuta probabilmente l'ho lanciata allora questa è la maschera in tessuto con estratto di tè verde che dona alla pelle una sensazione di freschezza intensa è vero che il tessuto è molto imbevuto è arricchito con tè verde e acido ialuronico aiuta a riequilibrare la pelle grazie alla sostanza lenitiva che è l'allontoina e a quella della amamelide con queste proprietà astringenti nonostante siano passati i giorni c'è ancora il siero l'unica cosa che non mi è piaciuta di questa maschera e non era successo un anno fa con le sorelle uscite e prodotte in Corea queste sono prodotte in Europa sono molto strette mi dispiace non aver tenuto la maschera per mostrarvela ma era una maschera che si sviluppava più in lunghezza cioè era molto oblunga non arrivava ad abbracciare tutto il volto il siero all'interno era presente il tessuto ne era ben impregnato ma ho avuto la netta sensazione che dopo 15-20 minuti questo siero evaporasse cioè la maschera si è asciugata immediatamente a differenza di molte maschere che invece rimangono ben fresche e imbevute oltre il periodo di posa indicato quindi ecco rispetto alle sorelle uscite l'anno scorso le ho trovate qualitativamente inferiore anche il tessuto mi sembrava un po' grossolano molto spesso e non mi è piaciuta questa proiezione in verticale allungata e tagliata troppo lasciando molto spazio rimaneva parte del volto scoperto ed io voglio dire sono magra ho un volto che si sviluppa proprio in modo oblungo e se stava stretta a me figurarsi a chi invece ha un volto più circolare più tondo quindi da questo punto di vista non mi ha entusiasmato devo provare ancora la sorella azzurra vi aggiornerò e vi saprò dire questi ormai li conoscete questo è il classico solvente per smalto senza acetone che io utilizzo per il pedicure sul classico dischetto di cotone sono 200 ml di prodotto ha questo erogatore che voi schiacciate e appunto dosate la fuoriuscita del prodotto e mi trovo molto bene ho terminato invece un altro di questi leva smalto ad immersione ne avevo comprati tre o quattro e mi sono durati tutto l'anno usciti anch'essi nella summer edition vedete questo tripudio di colori e di fiori proprio per ricordare l'estate le giornate all'aria aperta sorvoliamo su questo tasto dolente questo leva smalto ad immersione mi accorgo quando il mio ditto esce colorato vuol dire che la spugna all'interno è satura di colore e degli smalti vecchi che ho rimosso è arrivato al termine del suo ciclo e quindi lancio volentieri anche lui questi sono i miei prodotti finiti ho qui a conferma del fatto che io acquisto molto volentieri tutta la tropical summer di Lidre questa crema a mani con olio di cocco se dovesse uscire quest'anno ve la segnalo perché è molto molto valida sono 300 ml di prodotto con questo olio di cocco e di semi di girasole che la rende una crema molto fluida molto leggera anche non di quelle corpose adatta anche per il periodo estivo da utilizzare non solo come crema a mani ma anche come crema a corpo proprio perché sa di cocco ed è piacevolissima il profumo è ancora ottimo pur essendo 300 ml di prodotto non si è deteriorato questi sono i miei prodotti finiti per quanto riguarda Cien come sempre siamo stati 10 minuti in compagnia ora io vado a farmi un po' di workout noi ci vediamo domani bacio, ciao! ciao! ciao!